Ciao a tutti e benvenuti. Mi è capitato in queste ore di leggere qualche tweet di giornalisti, di osservatori, di addetti ai lavori che suonava più o meno così. Il Milan ha preso Charles de Ketler, perché si pronuncia così, poi ne parliamo durante la nostra chiacchierata, in moneta sonante e senza aver avuto bisogno di cedere giocatori. È chiaro che, insomma, tra moneta sonante, aumenti di capitale, necessità di cedere giocatori, si va in rotta di collisione con altri grandi club italiani e si rischia di fare polemica. L'avessi detta io questa cosa qua, apriti cielo. Ma sono contento di non averla detta e comunque, ognuno dice quello che vuole nella vita, sono contento di non averla detta con quell'accezione. Perché è chiaro che si può fare la frecciatina su Twitter, la fanno tutti ogni ora del giorno e della notte sul Milan, figurati se dall'ambiente dei giornalisti che seguono il Milan non si può fare qualche frecciatina. Però il tema non è l'avversario, il tema non sono gli avversari, il tema su questo punto siamo noi e dobbiamo essere noi che dobbiamo intenderci su come il Milan fa mercato. Lasciatemi ricordare OneFootball che a vostra esposizione andate nel link alla descrizione di questo video, scaricatela a OneFootball, è gratuito, vi darà molte possibilità, tutti i rumors di calciomercato estivi del Milan se scegliete il Milan come squadra preferita e poi l'opportunità di diventare proprietari a livello NFT di momenti iconici e immagini iconiche della storia del Milan. L'App di OneFootball è gratuita, l'App di OneFootball vi aspetta. Perché durante la trattativa di Ketlar, perché il Belgio è un paese bilingue, franco-fiammingo, Bruges è terra fiamminga, quindi un po' meno francese rispetto al resto del paese, Charles si pronuncia francese, non diventa Karl, ma non è de Ketler francese, ma de Ketlare. Lo dice lo stesso ragazzo nei video che potete consultare sul web. Al di là, al di là della pronuncia di Charles e del suo arrivo a Milano, che i giornalisti che seguono il mercato con attenzione danno tra oggi e domani. Perché durante la trattativa per il giocatore belga c'è stato un momento, non da parte di tutti i tifosi, non voglio ingigantirlo, non voglio stressarlo, però c'è stato un momento di forte scollamento, di forte sfarinatura, di forte tensione sui social, eccetera. Perché insomma alla fine il calcio è irragionevole per sua natura, il calcio è sentimento, pulsione e passione per sua natura, perché noi possiamo dirci mille cose ragionevoli, però poi se perdi una partita per una palla che va un po' così invece di un po' cosà, o se i giocatori che vuoi sul mercato tardano ad arrivare, ci si incazza. Però noi siamo liberissimi di seguire il nostro istinto, il nostro carattere, il nostro temperamento, i nostri sfoghi. Però questa cosa di avere un club che è libero di investire sul mercato i propri introiti sportivi, perché noi l'anno scorso i tonali, i mignoni, i tomori, i girù, tutti i giocatori che sono venuti a rafforzarci la scorsa estate, li abbiamo presi investendo i proventi della qualificazione Champions del secondo posto di campionato. L'acquisto di Charles de Quetlare, c'erano problemi anche per quanto capire anche la pronuncia di Salem Eakers, che poi ognuno pronuncia come vuole, poi io sto dicendo cose che verranno poi nella pronuncia, interrogerò su questo Luca Serafini che regala sempre perle di incazzatura godibilissime da questo punto di vista. Poi Alexi ci aveva detto, la pronuncia che ci aveva detto Alexi nel febbraio 2020 è diversa da Salem Eakers, abbiamo fatto diventare noi Salem Eakers o Salamella. Poi Origi, Origi, insomma, si dovrebbe dire Origi, poi si dirà Origi, insomma, poi è chiaro che è il paese che ti costruisce la tua pronuncia addosso, poi tu nel tuo paese sai come viene chiamato, però torniamo alla sostanza. Ora, senza buttarlo in faccia all'avversario, non c'entra nulla, non conta nulla buttarlo in faccia all'avversario, però avere la libertà, senza fare aumenti di capitale, senza fare bonus, senza fare debiti, di continuare a coltivare il ciclo virtuoso del proprio bilancio e investire gli introiti sportivi su progetti di calciatori, su prospetti di calciatori, su asset, su patrimoni destinati ad acquisire valore nel tempo e diventare un cespite importante del club. È una tua peculiarità, una tua caratteristica di cui devi essere orgoglioso. Non ti porta Lewandowski domani mattina, ma noi il calcio italiano, Lewandowski non se lo può permettere, non il Milan, il calcio italiano. Quindi dobbiamo essere orgogliosi del fatto che possiamo investire senza fare alchimie finanziarie ai nostri introiti sportivi e dobbiamo essere ragionevoli sullo stato effettivo di salute del calcio italiano. Perché poi qui, ragazzi, appena i club cercano di risparmiare, appena i club cercano di acquisire nuovi introiti, i club vogliono arricchirsi il calcio dei ricchi. Ma che cavolata è? Il calcio italiano perde solo soldi, sempre, comunque, a livello delle varie fasce, in modo piccolo, medio, grande, ma il calcio italiano perde solo soldi, nessuno si arricchisce, nessuno vuole arricchirsi. E poi il fatto di non essere costretti a cedere nessuno. Perché poi qualcuno mi dirà, eh ma certo noi giocatori non li cediamo, li perdiamo a zero. Benissimo. Qual è il danno di aver perso i giocatori a zero? Perché tanto? Perché tu mi dici, e se tu vendevi Donnarumma a 90 milioni e che sia 80 milioni, avevi soldi per poter comprare poi l'universo mondo. Ma il calcio di oggi va capito? Nel calcio di oggi non sono più i club che hanno il boccino in mano. Per cui i soldi per il cartellino dei giocatori ormai va più alle superagenzie e dei super procuratori che ai grandi club. Per cui non è il Milan. Il Milan sa bene che se rinnova un giocatore con il carico di aumento di ingaggio, di commissioni, eccetera, 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 alla fine per quanto lo vendi sul mercato, perché poi anche sul mercato con commissioni, eccetera, 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 poi alla fine il risultato è quasi sempre vicino allo zero. E quindi se zero deve essere, zero sarà con la rotta che indico io e come ci voglio arrivare. Il fatto di comunque avere di giocatori che vanno via a zero non produce danni sul nostro bilancio. Anzi, il nostro bilancio continua a migliorare. Non è ancora a livello di guardia, non è ancora dove si vuole arrivare, ma il nostro bilancio continua a migliorare. Per cui, diciamo, il non avere il morso della necessità di rientrare, di cedere i giocatori, di fare player trading che, ragazzi, chi lo fa è bravo a farlo. Cioè, non è che, non sto dicendo che siamo belli, bravi, unti del signore, gli altri sono brutti, cattivi, incompetenti. No, a seconda del, diciamo, del trend, della linea editoriale che ti sei dato, a seconda della tua storia, a seconda di tante cose che sono successe, una dopo l'altra, ciascuno è figlio del suo destino, figlio delle proprie scelte. Per cui ci sono tanti modi di fare calcio. Io penso che ciascuna tifoseria debba riflettere sul proprio modo di fare calcio, prendere i pro e i contro nel proprio modo di fare calcio. Noi, secondo me, questa cosa di fare un investimento importante su un giocatore che mediamente viene preso dalla Premier o dalla Bundesliga, quando i giovani talenti belgi hanno il livello e la qualità e la prospettiva di Decathlon, solitamente li prendono le inglesi o le tedesche. Se fai un'operazione di questo tipo investendo tanti soldi, devi capire cosa stai facendo. Certo, il Milan non ha mai bruciato questi ragazzi e sarà così anche con Charles. Però devi essere orgoglioso della tua politica, senza usarla per attaccare nessuno, ma capirsi bene per la prossima volta in cui le nostre trattative dureranno un po' di più, perché le nostre trattative sono fatte così, sono riconoscibili. Noi, ragazzi, se diamo un valore a un giocatore, se per noi non vale 40, non vale 40 e non ce n'è, così come ogni società che dialoga con il Milan ha il diritto di essere, tra virgolette, osso duro, però il Milan alla sua volta lo è ed è riconoscibile e coerente in questo e la coerenza può essere condivisa o meno, ma sempre di coerenza si tratta. Stasera c'è il Marsiglia, ne parleremo domani, ne parleremo domani, tutte queste belle prediche, poi bisogna vedere cosa succede stasera, perché poi tornerete a massacrarmi a strettissimo giro, però Marsiglia è dura, è Marsiglia è dura e noi dobbiamo pensare che siamo a due settimane dall'inizio del campionato, dobbiamo pensare all'inizio del campionato, più che alla partita di stasera. Però è chiaro che indossi la maglia del Milan e di cercare di fare bene, ma ci sono anche gli avversari, speriamo bene, a domani ragazzi.